Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi Mirko fa l'autista e andiamo a Palmi che è il primo posto, mi ha consigliato lo zio di Mirko, è il primo posto più vicino a Siderno che è sulla Tirrenica e su cui poter vedere il tramonto sul mare. E quindi io ho una passione dei tramonti, proprio una passione e Mirko molto pazientemente mi sta furtando. Stasera abbiamo ricevuto tre inviti. Tre inviti, è vero! Due cugini di Mirko hanno invitato Mirko e me stasera. Uno ci ha invitato a casa sola a Gialla Pizza, l'altro ha detto stasera ti porto in un posto buonissimo, mangiamo pesce. E io però gli avevo detto, perché lui arriva e mi dice guarda che stasera siamo con Ale, ha detto cosa siamo con Ale, che è una settimana che abbiamo un invito, una settimana, e dobbiamo andare a mangiare pesce. Eh ma che palla, adesso glielo dici tu, che mi vergogno, vabbè. Chiamo Ale e dico, Ale guarda che Mirko si è dimenticato che stasera in realtà abbiamo un'altra cena, andiamo alla cascina. E Ale mi fa, come alla cascina, anche noi siamo alla cascina. Ma lui così ti ha detto proprio. Sì, così. Quindi praticamente Ale ci ha invitato nello stesso ristorante in cui ci ha invitato la mia amica. Stesso orario. Stesso orario tra l'altro, quindi uniamo i due tavoli e stiamo là, in sostanza. Comunque siamo quasi arrivati a Palmi, mancano dieci minuti esatti. I Palmi. I Palmi. E vedremo il tramonto. Si chiama Palmi perché ci sono tante palme. E una volta, tanti tanti anni fa, quando hanno dato il nome alla città, hanno dato i Palmi. Le calabrese, le palme, i Palmi. Siamo per uscire a Palmi, ragazzi. Allora, dalla ripresa purtroppo non si vede, ma c'è il sole che sta scendendo sul... No, vabbè. È uno spettacolo della tua. Io non so cosa ci sia di più bello, veramente, al mondo. È mille volte più bello il tramonto sul mare che l'alba, secondo me. Mille volte. Beh, mi... No, non c'è paragone. È normale. E come mai? Perché è diverso, ha il colore. Guardate. Il sole, sono... No, vabbè. Ragazzi, non ci posso credere, ma guardate... No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. Grazie a tutti. Sto convincendo Mirko a farsi un bagno perché voglio riprenderlo mentre affoga. Siccome ci sono affoga ovviamente sto scherzando, non è. Guardate che ondone che ci sono. Io non me lo faccio perché a me il mare così non piace, però eccovi, guardatelo, eccolo, eccolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.